Ciao, con gli amici di Vai Comedy quest'oggi abbiamo provato le strade sterrate, asfaltate di Lu. Quest'oggi abbiamo provato in particolare le strade bianche. Mi hanno fatto fare un percorso che per tanti potrebbe essere anche azzardato, forse considerato da pazzi, però vi posso garantire che anche questo modo di interpretare la bicicletta ha il suo fascino e proprio per questa ragione io penso che molto presto sempre gli amici di Vai Comedy potrebbero anche organizzare una cicloturistica su queste strade meravigliose per quegli appassionati che vogliono fare della bicicletta anche una sorta di modo di vivere, perché no, anche eroico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.